E salve a tutti cari sconosciuti, io sono Fanny Rosa Preferita e MyLoki e non potevo esimermi dal portare sul mio canale Winds of Change, un giochino indipendente con una musica veramente bella, devo dire, non me l'aspettavo Una visual novel che ha come protagonisti i nostri cari amici furri, come voi ben sapete io apprezzo estremamente questa tipologia di personaggi Per cui non vedo l'ora di vivere questa avventura nel mondo di Alestia, dove gli spiriti regnano supremi Purtroppo non c'è l'italiano, per cui vi lo dico già adesso, siccome non sono in grado di farlo, non potrò tradurre in tempo reale E' anche doppiato, non so se mi spiego Attenzione eh, plot plot Ok Quindi c'è questa spada che è molto importante Ok 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 Mamma mia Cioè già più trama di un sacco di giochi moderni, comunque tepla eh Non vorrei dire Però Andiamo no alla Alla ciccia Quindi sarebbe questa la spada Beh sì, ok Spada incredibile che potrebbe determinare la salvezza e la distruzione del mondo Così come lo conosciamo Hype incredibile Però adesso incontriamo i nostri personaggi Che sono assolutamente il motivo per cui ho Mi sono resa disponibile a portare il titolo sul canale Ok Quindi A quanto pare c'è Appunto un incendio Ok Quindi cosa abbiamo? Abbiamo perso la memoria? Ok Non abbiamo perso la memoria Ok E come se fino a questo esatto momento io non fossimo esistito Ok Cioè quindi Non sappiamo neanche Magari siamo stati noi stessi la causa di Di questo incendio Ok No, non è possibile Ok Ok Ciao, scusa, chi sei? È come se lei mi stesse accompagnando e la dovessi seguire Ok Così da un momento all'altro abbiamo perso la memoria quindi Ah ok, questo probabilmente è maschio-femmina Ok Va bene Femmina Eh, mi sa, eh Ok Non siamo soli Ah, mamma mia Guarda le Mamma mia Furri potente Ok We need to stay calm and think this through Two girls like you I'm sure you can come up with something We'll be safe and sound before you know it Vabbè, se lo dici tu Lei non è molto convinta Comunque Ok Ok Quindi dobbiamo trovare una Un riparo Stanno passando in mezzo alla gente che prende fuoco Praticamente Ok Ok Va bene Quindi facciamo Vabbè, sì Aspetta Cioè li stiamo lasciando morire per guadagnare tempo? Cattivissimo il gioco E anche lui ha ragione Ok Quindi lui ci sta proteggendo Ha degli addominali incredibili comunque Mi farà troppo ridere come è messa lei Perché siamo noi Siamo più importanti dei civili Ok Ok Non capisco perché abbiamo perso la memoria così di botto Ma che cosa brutta Sembra che non ricordo nulla Me ne ho preso molta filosofia Il fatto che io non ricordo assolutamente nulla Ok Vabbè Mamma mia Mamma mia Ma la cattiveria di questo gioco Cioè proprio Un cinismo incredibile Fantastico Ok Quindi mi ha dato la spada Non posso combattere Non ho nessuno Non ho nessuno a destravento Anche l'arco Comunque lei Ok Mi ha dato la spada L'hanno presa Con estrema filosofia Il fatto che io non ricordo assolutamente nulla Evidentemente in questo mondo Capita spesso Come è normale? Vabbè Ok Quindi noi siamo speciali Perché Riusciamo insomma A avere queste visioni Grazie agli spiriti Oh mio Dio Quindi è normale Che succeda questa cosa Ah per questo sono tranquilli Cioè è normale Che io perdo la memoria Ok Va bene Ok 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 Ah Ok 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 quindi a questa cosa non è reale a quanto pare quindi adesso teoricamente mi sveglierò e sarà tutto a posto non mi pare molto a posto sinceramente ok è presente il Trenumirato cospira con il loro grande inquisitore per cioè ancora non sono avvenuti gli eventi che portano alla distruzione di Valinort mamma mia che paura che animale è questo? questo è il Furry over 9000 cioè non è talmente Furry che non è neanche un animale vero ha le corna le orecchie muso non so va bene lo vedo anche bene E poi fichissimo Questi tre che parlano temporaneamente Si saranno esercitati Ok Ok vabbè Sì ovviamente sto scherzando È ovvio che non possono essersi esercitati Cioè sono proprio tipo collegati Che cazzo Quindi è lui Il grande inquisitore Ok va bene Vabbè sì sì Chi è l'apprendista? Chi è l'apprendista? Oddio Unico Enorme Perché lui è nudo e lui no? Ma non importa Cattivissimo Mi si sono eliminati gli occhi Guardate lui che cattivo Molto più cattivo lui comunque Non vorrei dire Ok si chiama Halin 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 Ok Ok si sono andati Siamo cattivi Siamo cattivi So it's finally going to happen Isn't it? What we've been waiting for All these years Do you think we should tell Sylvie Our true plan? Ha Ovviamente noi non lo sapremo mai Il loro vero piano malvagio Sì ma in tutto questo no? Io dove sono? Perché non posso essere io il prigioniero Ovviamente perché hanno detto che è maschio Io ho deciso di essere donna Quindi Ok Sta una favola un qua Sta una favola un qua Che cattivo Allora è doppiato benissimo E io mi sto immaginando Al di là dell'incubo Che sono i furri Per quanto mi riguarda Ma che comunque Questa cosa ipoteticamente Anche con altri Con personaggi umani Comunque Cioè anche solo Per come gestita Sarebbero dei filmati Fichissimi Ehm You see I'm different from Sylvie He's passed the bar They no longer need To test him But I'm in the position Where results must happen When we give you back You'll be a broken man And soon after The foundation of the rebellion Will crumble You think we don't know That Damak is your leader? What? Nooo You'd be stupid Not to think We have inside men I could order Damak's execution In a matter of seconds You don't value your life But You value his Che co Qui è così felice Poverino Nooo Voglio sapere Quindi io sono quella Che può brandire la spada Immagino Ok siamo tornati Oh mio dio Che paura Che violenza Ah Scena fichissima Spirits Please forgive My misditi I acted only To protect those Under my watch Che succede Ah Quindi L'armatura Era completamente vuota Beh Sì Se però qualcuno li controlla E infatti Era vestito come i tizi Incappucciati Appunto Li stanno controllando E vediamo Spigone Spigone Cos'è il trinvirato E invece Stanno facendo Le loro cose Sozze Mentre ci sono le fiamme E i morti Comunque in giro Ok Ok Perfetto Perfetto Vabbè Comunque Diciamo che C'è stata una reazione A parte del villaggio Non sono stati massacrati Tutti Sì Sì però Non c'è neanche Una goccia di sangue Questa cosa è strana Quindi praticamente Hanno dato fuoco Per far uscire fuori Le persone E attaccarle Praticamente Praticamente Ehm Ehm Questa è più grande che Valinorv, soprattutto se si involge la ribellione. La informazione potrebbe salvare le villagie entri. Non mi piace quello che ti suggerisci. Oppure siamo tutti in una visione collettiva, magari, grazie a me, possibilmente. Solo io ne ho avuto coscienza e lei? Non lo so. Cioè perché lei sta spingendo la situazione per far sì che io possa avere più informazioni possibile. Quindi sta, praticamente a quanto ho capito io, visto che non è reale una visione, sta spingendo me ad andare a trovare più informazioni anche a costo di fare soffrire la gente, perché tanto non è reale. Questo ho capito. Questa è una questione di Valinorv's futuro. Such cose sono sotto la giurisdizione di Siris. Io sto per l'altra parte, e tu sto per l'altra parte. Cioè, se vuoi che vuoi abbandonare il tuo lavoro. Però questo non sembrava bene, su una ricorda perfetta. Ok. Vabbè, no, no, no. No! Che che è? Ok, ho sbagliato il tasto. No, no, Milus. Ma anche perché? Scusate tanto, ma... Che co... Due stronzi. Io sono rincogionita e manco sottolineare la spada. Arrivano sti due e vorrebbero fermare un attacco delle armature magiche che stanno distruggendo un villaggio. Fammi capire. No, meglio sgattaiolare e cercare di capire che sta succedendo. Andando dall'anziano. Che cavolo fai? Ok. Sì, è noi che dovremmo fare un Rick con le hundred of lives. Fammi capire. Vabbè. Ok. Ok, perché... Io non abbiamo una visione del futuro, però continuo a dire... Come... Cioè, loro che sono. Vabbè. Ok. Cioè, è questo che non mi è chiaro. Cioè, loro, il loro ruolo esistono sul serio. Cioè, questa cosa sta realmente succedendo. No. Cioè, praticamente, questa cosa sta realmente succedendo. Solo che io, tipo, mi sono sovrapposta nello spazio-tempo. Per cui sto avendo una visione del futuro. Entrando nel mio corpo del futuro. Con la mia coscienza del presente. Per questo motivo si è resettato tutto. E allora la tizia che con me l'ha capito, credo, è un casino. Vabbè, però è figo in realtà. Cioè, se non fosse l'ansia dei personaggi, devo dire che è molto figo. Nel mentre... Ok. Ok. Lui quindi dovrebbe essere il capo della ribellione, da quanto si ricordo i nomi. Ok, sono io, chiaramente. Ecco. Esatto. Beh sì, anche sì Ha ha Ecco Ok, spiegami Perché questo bro ancora non l'abbiamo visto Quindi lo sa che se l'aspettava Quindi comunque lui vede pure la roba Ok, quindi Ah, ok Quindi ci ha dato la spada per questo motivo Ce l'ha spacciolata in mano per questo motivo Ok Gli addominali di questo coso mi turbano tantissimo comunque Ok, quindi Milus non c'è O forse se l'ha portati dietro Ok, però quindi Qui per adesso le fiamme non ci sono Come on Milus Give us something We're smarter than this I know it Shipping manifest Anything None of this is helping It's everything you'd expect to find There has to be something here Come on Sirius Give us a hand Oh Oh Addirittura Fico Ok Ok Quindi alcune mappe hanno più zone E posso girarmi Vabbè Posso Posso muovere il cursore Nello schermo Posso interagire Posso parlare Ok 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 Non è obbligatorio ma è consigliabile che noi parliamo con i nostri alleati Where did you come from? You mean today? In general Oh I'm a mercenary From Mazeo I was actually hired to come bring you back there A summit is happening and they want your input Parlami maybe you di Mazeo It's basically the hub of Alestia Ports from there go to the rest of the known world A huge city of commerce It's full of strange people But you'd get stabbed in the back before you find help That's what puts people like me in business Protectors of the weak Aha Well Well Not that I'm calling you weak But you get the idea Ah Is that an accusation of some kind? Where I come from You don't accuse the guy with the bigger sword I'll pretend I didn't hear that And carry on with his search Look I don't ask for specifics I do this to get paid and make a living If you want Feel free to ask them when we get there And that is if you two even agree to follow me Ok Ok va bene Because of its central location it's the perfect meeting spot The generals from Alorinthia and Baltia sail over annually Ok Mamma mia quanta roba Ok I guess it's a good thing I got here when I did right Ok Ok Questa è tutta una cazzata che si è inventato lui Ovviamente Diciamo È la sua copertura Non è vero Va bene Back Hai trovato qualcosa Beh giustamente Vabbè dai Non mi interessa Ok Spiegami meglio questa cosa Eh appunto Ok Quindi comunque non è una visione solo mia È una visione diciamo di gruppo Ok Ok Quindi appunto teoricamente non ci dovrebbe essere coscienza di questa cosa Perché gli spiriti stanno nella vostraizione Ah Esattamente ma nessuno aiuta senza uno scopo diciamo Un secondo fine Va bene Quanto durano As long as any other dream I guess Or maybe when the spirit society you've seen enough That's one of the things we don't really know I guess something dramatic like your death would end it Certo giustamente Ok Vabbè Vabbè dai Giusto per vedere un attimo Ah Ecco Va bene Ok E' caduto Dai Fammi riassunto di questa cosa Ok 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 Quindi noi non sapevamo della spada Ulrich Sei un'ipocrita E' caduto E' caduto Ok, mi ha detto che ci sono stato un po' di più. Ho cercato di scoprire, ma credo che non c'è più il punto. Dopo vedere questo attacco, mi chiede di chiedere di vostra helpa. Questo è molto da l'inizio di prima villaggio che ci saranno. Ci sono in una cosa più grande. E' da questo motivo volevi arrivare qui, certo? Si, è vero. Non c'è tempo di discutere e non c'è più da dove andare. Si, sembra che hai dove hai bisogno, Ork. Andiamo a tornare a grande treno. Puoi... Ok. Eh. Allora, devo dire che la cosa che mi colpisce e che mi fa immensamente piacere, cioè al di là del discorso ansia infinita, che in realtà i dialoghi sono molto belli. Ok. Questa spada... Cioè, vale la pena, diciamo, questi sforzi, questa devastazione e tutto. Distruggere un'intera cultura per qualcosa di così semplice. Ok, non bisogna tossire, non farsi beccare. Ah, quindi questa cosa continua. Ok. Eh, infatti, appunto, dice Navi, ho sentito delle urla. Com'è possibile? Quindi, appunto, la situazione attuale non corrisponde a quello che abbiamo sentito. Ah, appunto. Ah, appunto. Ah, appunto. Ah. 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 Ok. Quindi, cioè, giustamente, io mi sto fidando di lei perché è l'unica cosa che dà senso al fatto che non ho memoria. Effettivamente, cioè, non abbiamo certezza che questa sia una visione. Ok. Oh, mio Dio! Ok. Fammelo vedere! Mio Dio, che paura. Ok. Eh, infatti, l'ho riconosciuta la voce. Ah. Ok. Ma perché mi ricorda io che si illumino? Questa è diventata una cosa personale Quindi evidentemente appunto si conoscono Evidentemente hanno già combattuto Oh mio dio un uomo è cattivissimo No è morto L'asciutato Eccolo Oh 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 Ah Quanto pare Oh mio Dio Ok Ok quindi appunto Grazie a questa spada Loro possono prendere Gli spiriti Degli esseri viventi E utilizzarli Ok Hai già perso Oh devo dire la verità Non mi aspettavo che fosse così fico Sono veramente positivamente colpita Wow Wow E non pensavo di farlo durare così tanto Va bene ma ci fermeremo qua Andrò ulteriormente avanti Che dire ragazzi Trovate il gioco in vendita Su Steam E nel momento in cui sto registrando Non è ancora uscito Ma comunque non in caso Al di là di quello che è una scelta di design Più o meno apprezzabile A livello di trama Di doppiaggio Di sceneggiatura Mi è piaciuto un botto Cioè potrebbero essere elfi Nani Gufi Persone Lucertole Serpenti E cani Cioè non importa Al di là appunto di quello che è Un design Probabilmente voluto anche per fare un po' fantasy Un po' colore Un po' attirare un certo tipo di pubblico Devo dire che narrativamente Mi è piaciuto tantissimo Fino ad ora Poi non ho idea di dove voglio andare a parare Ma mi ha incuriosita Davvero tanto Davvero tanto Ma anche le musiche Cioè il doppiaggio La musica Figo 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 Fatemi sapere che cosa ne pensate Che dire Wow Sono contenta di avere avuto questa opportunità È sempre comunque un piacere Scoprire Questi lavori Soprattutto quando sono indipendenti Perché È bello vedere che Oggi sia possibile Anche senza un budget incredibile Se si ha un'idea Svilupparla Poi ovvio che Avendo un budget da tripla Questa cosa la fai Ci fai una narrativa dietro Un gameplay Una roba Però Non potendo fare questo E volendo raccontare Semplicemente una storia Puoi farlo E Wow Complimenti davvero Quindi A questo punto Attendo la vostra Io sono stracontenta Ringrazio tutti quelli che Hanno Avuto la pazienza Di arrivare fino a questo punto del video E Vi ringrazio per l'attenzione E noi ci sentiamo O ci vediamo In un prossimo video Ciao 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 Grazie.